L'olio primo classificato verrà dato un frutto, al secondo verrà dato una lonza e a seguire dei salanti a premio. Questa l'abbiamo fatto, per chiarezza e per essere trasparenti, la prologo, il direttivo, i colbigi e avevamo deciso di tenere gli ogni dei prantoiani fuori concorso. Loro partecipano perché tengono soprattutto ad un giudizio da parte della nostra splendida e verità giuria, però noi proprio per invogliare la produzione locale e delle famiglie autottone e del nostro territorio li abbiamo tenuti fuori dalla competizione. Bene, ultima idea. Grazie. Vabbè, allora, grazie a tutti, grazie al professor che mi dà la parola. Tu sei lo caldo. Io sono un'attività, non sai, però vicino a voi, però comunque cercherò di impedire, è un'attività, bellissima, un altro professore di platea, vorremmo comunque a creare le missioni. Allora, noi cerchiamo tantissimo di fare questa cosa, come diceva anche ora. Purtroppo, come ha ovviamente iniziato il professor Seghetti prima di iniziare l'assaggio, in effetti che noi tutti abbiamo riscontrato qui, che è una costante, l'abbinato, perché siccome l'abbinato si sono asciutti al sole, quindi soccato quest'anno, anche senza un intervento meccanico, che però poi è un intervento meccanico che è finito a voi, perché vorrà raccontare le pacchettone qui in un capimento di risa, si è imbarco, voglio dire, e quindi in un 1% di più, questi capioni presentano il difetto di abbinamento, più o meno intenso. Andiamo comunque trovando degli oligoni, quindi ci saranno tutti, che non sono di melo peggio, non sono oligoni. Per quanto riguarda invece quello di buon concorso, essendo un progetto di vita, quanto di vita, gente esperta e competente, ci aspettavamo a un livello molto superiore, il livello è basso. Basso, infertoso, non diciamo di messo progetto. Però, io non sono così compace con il professore, poi lui avvengerà, io mi invito a dire perché secondo questa commissione il primo classificato è il campione numero 6, il secondo classificato è il numero 17, il terzo classificato lo dirà lei perché è il numero 6. il terzo classificato è il numero 6, il terzo classificato è il secondo anno che partecipa perché abbiamo bisogno di un ingiovanimento, per fortuna quest'anno ne abbiamo tre di giovanissimi che stanno qua, non so parlavano, mi fa piacere perché ha notato molto fatto e ha grandi possibilità anche per il futuro, perché giustamente cominciare a capire, come ha detto il dottor Giovanni l'annata è stata suscitosa, c'è lo stress termico, per unire molte, il rapporto polpa a nocciolo era molto polpa, soprattutto qui c'era la carbongella, era molto più nocciolo che polpa, ci sono pregrentite, quelle forse un po' da ora, come si dice, un po' delle, erano un po' più nocciolo, però praticamente hanno subito troppo caldo, troppo caldo, infatti i profumi non ci sono, allora non ci sono questi che sono stati selezionati o quelli che hanno qualcosa di più, se poi ci si rimette tutto il caldo, questo ragazzimento, i tempi che sono passati, forse meglio di questo non potevate farlo, diciamo, e non disprezzatelo, perché quest'anno anche questo è oro, questi ori adesso dovete stare attenti a conservarli, perché tutti non hanno niente amaro, niente piccante, non si conserveranno, dovete tenermi in ambienti senza aria, senza luce, eccetera. Per arrivare, se Dio vuole, alla prossima raccolta. Bene, per quanto riguarda i frantoliani, perdonate, questi fanno il loro mestiere, sicuramente a un anno le aziende loro hanno comprato le olive, ma se li assaggiate e complimenti alla Prologo che mi ha fatti partecipare, perché questi erano quattro, ma i primi tre stavano su questi quattro, quindi per farvi capire, avrete l'ho vinto, i frantoliani, invece qui la vincita è per dire, il piccolo produttore può anche lui fare qualche cosa. Ce lo potete dire il frantoliano, il frantoliano, insomma, che è l'intervento, 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 il primo con il portato, amato, il cante, il frantoliano, quello che è sopporto, è l'intervento. Grazie. Chi piace a fare il misurino giusto, non so, 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 non so. E' vero. No, ci abbiamo parlato, sì, solo la parte ha parlato, sì, manca anche la voce, effettivamente bisogna strillare, perché l'attenzione degli allievi è sempre meno, non comprare i telefonini ai giorni.